bene a tutti i stortini e tocca a me dire che questa volta siamo in un nuovo video ragazzi dopo due giorni di lavori da fatti da me e Gabri perché lo stortino sempre sul divano con la panza piena siamo riusciti a completare la nuova postazione ed ora faremo entrare lo stortino che non ha visto niente giusto qualcosina per dirci come mettere esatto qualche altrimenti ma non l'ha vista ancora completa ragazzi dato che era in giro con la mano per delle compere adesso vedrà come è uscita la nuova postazione andiamo subito a chiamarlo sei storto sei sceno bassino sei brutto mi sembri uno nuovo con le gambette corte con le manine storte con 4 o 5 menti tu sei veramente storto si ma non troppo stortini prima di partire con il video vi voglio annunciare che ho iniziato a collaborare con instant gaming per chi non lo conoscesse instant gaming è un sito che vende giochi digitali a pochissimo prezzo si parla di giochi scontati fino al 90% potrete trovare sul loro sito tantissimi giochi addirittura anche in pre order ad esempio pes 2021 fifa 21 e come potete vedere a prezzi scontatissimi ovviamente non manca anche fortnite abbiamo dei pack con vbucks e skin e diciamo di tutto e di più se siete interessati a comprare qualche gioco e come potete vedere ci sono di tutte le piattaforme vi basterà andare sotto in descrizione di questo video e cliccare sul link dello stortino che vi porterà al sito di instant gaming e cliccando sul mio link avrete un ulteriore sconto detto questo raga buon video raga bendiamolo nooo sei pronto nooo ho paura ho paura di vedere qualcosa di veramente prima preparati vai ok soffoco non c'è problema va tutto nella norma ci vedo ok ci vedi si come si no ci vedi si no no non ci vedo ok ok vai e vado dove cavolo vado vai vai cammina cammina ci tengo io vai 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 va anche lo scalino ok vai ok oh raga raga non ci vedo ok oh mio dio no vabbè no vabbè raga ma quanto non è figa spettacolo c'è ok sapevo cosa ho comprato ma no vabbè la 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 sony la sony raga adesso le live in 4k i video in 4k mamma mia ma che spettacolo no vabbè finalmente non ci sono più le luci di natale che è passato natale nooo ma che spettacolo non è no c'è qua angolo con so mamma mia quindi voto voto 11 voto 11 le cassini attaccate nooo che spettacolo ma dove sono grazie raga c'è un applauso un applauso un applauso raga scrivetemi anche voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova postazione ragazzi adesso vi lascio con una carrellata per vedere tutto quello che c'è qua di nuovo perché è veramente uno spettacolo nuove Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un qualcosa di serio. Io non vedo l'ora adesso di andare in live con la nuova postazione. Anzi in realtà voi quando vedrete questo video sarò già andato in live perché non posso aspettare. Spettacolare. Ragazzi lasciate un bel like per la mia nuova postazione. Perché ho voluto appunto migliorarla. Perché voglio portarvi dei contenuti di qualità. Perché lo stortino ricordatevi sempre che non si ferma mai e vi porterà sempre più contenuti fighi. E ogni domenica io ve lo ricordo ci sarà una live in cucina con lo storto nella nuova postazione giù in taverna. Quindi ragazzi che dire? Io vi ringrazio di aver visto questo video. Noi ci si becca ad un prossimo come sempre un salitone dal vostro. Storto? Ma non troppo. Ciao belli! Cioè no veramente vi ringrazio comunque uno spettacolo. È troppo bella.